Senti Ligo, numero 14, le dati di Stiglitz, numero 15, Paolella Chico, numero 16, Mazzola Aria, numero 18, Duratti Alessandro, numero 21, D'Apure, numero 22, Vigabria, numero 23, Jogiman Neri, numero 24, Ombadò Omeci, numero 25, Vecchio, Ange, numero 26, Fedora, Regoli, numero 27, Stornetta, Tira, numero 28, Odiana Gianluca, numero 29, Neso, Uman, numero 32, Juskins Roberts, e di portieri numero 30, Vecchio, Gabriele, numero 38, Mizzaninius, il Red Coach è Giannazzi Bucca, guapa! Mannschaft von GZ Caravans. Mit der Nummer 2, Benz Flam. Mit der Nummer 3, Liet Robinsammer. Mit der Nummer 6, Martin Morris. Mit der Nummer 7, Troamatinius. Mit der Nummer 8, Böhlor-Duoa. Mit der Nummer 9, Wolf-Hermannis. Nr. 10, Carlo Manico. Nr. 11, Carlo Fumano. Nr. 15, Roussard Fumano. Nr. 16, Louis Benjamin. Nr. 18, Berchner Diplas. Nr. 25, José Di Gili. Nr. 24, Muro Fabio. Nr. 26, Féon Cyril. Nr. 27, Ego. Nr. 29, Roussard Fumano. Nr. 39, Roussard Fumano. Nr. 21, Ego. Nr. 10, Roussard Fumano. Nr. 7, Berchner Diplas. Nr. 9, Berchner Diplas. Nr. 15, Berchner Diplas. Grazie a tutti. 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 Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti. a tutti. Grazie 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 a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. , a tutti. 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 a tutti.